Ciao bianconeri, bentornati sul mio canale. Questo è un video particolare, voglio raccontarvi una storia. Due in Puglia, uno in Calabria e io l'unico disgraziato che sono vicino a Varese a prendermi l'umido che fra un po' avverrà anche il temporale. Ragazzi io vi ringrazio per il vostro tempo, ci vediamo alla prossima. Ho il tablet in stand by per la call di là e ho letto iPhone invece su questo. È stato un momento altamente evocativo, Paolo. Ho passato il sabato sera con il cellulare in mano per creare questa roba qui, ci ho messo sei ore ma ce l'ho fatta. Era bellissimo. Mancava solo Shade! Ragazzi porca di quella puttanga! Ragazzi io vi ringrazio, ringrazio tutti voi che avete scelto di essere qui in live streaming con me. Ciao, grazie per l'invito, un saluto a tutti quelli che ci seguono. Oggi ho una sorpresa per voi, ho voluto chiamare l'amico youtuber Colpo Gobbo perché qua la situazione sta degenerando, non si dorme più di notte. Ciao Paolo! Ciao, ciao Dan, ciao a tutti! Ciao Dan, ciao a tutto il tuo pubblico, sempre un piacere fare una chiacchierata sulla Juventus. Ciao a tutti, buongiorno! Sapete quanto il calciomercato mi piaccia, mi diverta e quindi ho cercato di tenervi compagnia, so che lo fanno anche tanti altri, ho cercato di farlo a mio modo, non piaccio a tutti, lo so e va bene così.